Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 19 novembre Leonardo Piccinini Piero Maranghi prima di iniziare facciamo gli auguri al nostro presidente auguri tondi tondi ma non si dice quanti no sono 40 o 50 più o meno si facciamo gli auguri al presidente degli amici di Brea Carlo Orsi e salutiamo la di lui consorte meravigliosa Norris tanti auguri a Carlo Orsi e continua a regalarci bellezza troviamolo sto caravaggio troviamolo e poi lo regali a noi va bene evviva la meravigliosa musica di Franz Schubert nello specifico parliamo del trio per pianoforte numero 2 mi bemolle maggiore opus 100 dopo aver vissuto appena 31 anni Schubert si spegne a Vienna al 19 novembre oggi del 1828 solo un anno dopo Beethoven e però in mezzo un solo anno ci sono davvero due univexi. Dedichiamo questa puntata su Schubert a due amici del canale il primo innamorato pazzo di Schubert si divide tra Tarvisio e Miami dove protagonista nel bene e nel male di mille avventure e disavventure è Gabriele Massarutto fammi dire nel bene nel bene nel bene e nella bellezza della sua compagna Maria Giovanna Elmi e poi salutiamo ancora una volta uno splendido amico del canale amante di Schubert come di Borromini perché oggi salutiamo ancora una volta il grandissimo architetto. Paolo Portoghesi che è sempre con noi sempre allora la storia della musica è costellata di morti premature e carriere stroncate il caso di Schubert colpisce in modo particolare anche per la sua crudeltà la morte lo coglie finalmente nel momento in cui la sua carriera sta per decollare perché dopo anni di fatica nell'ombra in successo indigenza e soprattutto sai era morto appunto Beethoven l'ambiente musicale viennese finalmente si accorge di lui. Era un uomo troppo buono Schubert sappiamo che era un uomo di grandi amicizie di spinte di spinte verso il prossimo sempre circondato da questi amici che lo adoravano eppure diciamo la sua fortuna è una fortuna postuma. E ricordiamolo Schubert riesce in un intento artistico immane perché nell'adorazione assoluta del genio di Beethoven lui ha la capacità nel rispetto assoluto nella venerazione appunto di superare l'insegnamento del maestro e di creare qualcosa che poi avrà il suo pieno sviluppo molti anni dopo penso al sinfonismo di Bruckner e di Gustav Mahler. E finalmente celebri diventano le sue composizioni lideristiche su testi poetici di autori come Goethe, come Schiller, come Novalis. Schubert va ascoltato mangiando una fetta di Sacher e bevendo anche delle cose molto buone. Sì, nonostante la breve esistenza ricordiamo la sua produzione è particolarmente prolifica. Parliamo delle fantasie, dei tri per pianoforte e archi, i quartetti, la morte e la fanciulla per archi, le sinfonie, le cantate, le messe. Schubert si avvicina alla musica sin da giovanissimo perché ha soli cinque anni e il padre che era maestro di scuola che lo introduce all'arte musicale e gli impartisce personalmente delle lezioni di violino. Sì, la sua era una famiglia di estrazione umile, di origine morava, si erano stabiliti a Vienna, una famiglia contadina quindi. Però lui, diciamo, si emancipa rapidamente da questa condizione con la frequentazione di grandi musicisti e appunto inseguendo il suo talento straordinario. E poi Michael Holzer, l'organista della parrocchia di Lichtenthal, il quartiere natale di Schubert, ha insegnargli l'arte del canto e dell'organo. C'è una testimonianza di Mary Tibaldi, chiesa, che ci racconta di quel giorno in cui Holzer ha esclamato, riferendosi all'odevole allievo, all'armonia nel mignolo. A undici anni il nostro Franz viene ammesso al convitto civico, entra a far parte del coro della cappella imperiale e lì viene notato da Antonio Salieri, che diventerà l'allievo prediletto di questo grandissimo. Negli anni del convitto Franz Schubert, il giovane Schubert, scrive le sue prime composizioni, principalmente si tratta di Lider. Lui tenta la carriera di insegnante, ma vi rinuncia poco dopo. Vorrebbe infatti vivere solo per e della sua musica. Naturalmente la difficoltà è quella di trovare un editore che voglia pubblicare le sue composizioni. E queste difficoltà anche economiche ostacoleranno, lo sappiamo, la sua carriera. Lui si alternerà presso le diverse case degli amici che all'inizio degli anni venti partecipano alle famosissime Schubertia di queste serate musicali organizzate in cerchi di intellettuali artisti dove si leggeva, si conversava e si ascoltavano appunto le opere del compositore. Sono capolavori musicali che però per tanti anni rimarranno confinati nelle dimore private, sottovalutati, trascurati dalla critica musicale del tempo, forse per via della complessità dello stile o forse perché vengono associati alla vita mondana di quella Vienna. Nel 1822 anni di vita sregolata Schubert scopre di aver contratto la malattia venerea delle malattie, la sifilide, e le conseguenze sono catastrofiche non solo sul piano fisico. Squattrinato, lui invecchia precocemente ed è costretto a mantenere la riservatezza su una malattia che al tempo rappresentava un vero e proprio stigma sociale. Ciò nonostante continua a comporre incensantemente, anzi forse mi viene da dire necessariamente deve comporre con ancora più foga e più fretta, e nascono in questo periodo le partiture più celebri. Io penso all'incompiuta, la sinfonia che oggi è nel catalogo la numero 8. Meravigliosa, meravigliosa. Con quell'inizio folgorante, folgorante. Estate 1827, grazie anche all'intercessione del baritono Johann Michael Wohl, sostenitore in defesso dei suoi leader, Schubert riesce a imporre la sua musica all'attenzione di alcuni importanti editori. È una consacrazione, finalmente, 26 marzo del 1828, nella sala piccola del Musikverein, con una serata interamente dedicata alle sue musiche, una serata patrocinata dalla Società degli Amici della Musica, Gesellschaft der Musikfreunde. Schubert non solo sale alla ribalta del mondo musicale viennese, ma riceve, notizia strepitosa per lui, un compenso che gli permette di pagare i debiti, di cercare una casa che sia al suo livello e addirittura... Di acquistare un pianofonte. Perché fino a quel momento aveva composto su strumenti a prestito e, lo sappiamo, spesso si era trovato a tracciare dei pentagrammi su dei fogli rimediati, laceri. Con quel che resta dei soldi, Schubert regala a se stesso e a Edward von Bauernfeld, drammaturgo, i biglietti per andare al concerto di una rock star del momento, l'italiano Niccolò Paganelli. Pochi mesi più tardi, però, i sintomi della sifilide tornano ad aggravarsi, ci trasferisce a casa del fratello Ferdinand, sembra che le condizioni di Schubert migliorino, un timido miglioramento, e Schubert si concede una gita a Eisenstadt, oggi capitale del Burgenland, per visitare la tomba di Josef Haydn. Sia Schubert che Haydn, Haydn soprattutto, ma anche il nostro, erano legati alla famiglia Esterazzi. Certo. Gli Esterazzi avevano dei possedimenti infiniti che andavano dall'attuale Austria all'Ungheria, alla Slovacchia, e appunto la tomba di Josef Haydn per lui è un pellegrinaggio, e c'è una leggenda. La leggenda vuole che proprio qui lui si ammali di febbre tifoidea, che gli dà il colpo di grazia definitivo. Le ultime settimane sono strazianti, condizioni fisiche al tracollo, ma lui non si ferma e decide di iscriversi a un corso di contrapunto e fuga tenuto dall'organista Simon Zekter. Schubert, però, queste lezioni non farà neanche in tempo a iniziarle, perché si spegne nella casa del fratello Ferdinand il 19 novembre oggi del 1828. La cosa, diciamo, bella in questa amarezza è che verrà sepolto accanto alla tomba di Ludwig van Beethoven, scomparso appena un anno prima, nel 1827, e il poeta Franz Grilparzer, l'autore dell'epitaffio sulla sua lapide, che recita «qui la musica ha seppellito un ricco tesoro, ma ancor più belle speranze». C'è un ultimo episodio che merita di essere raccontato ancora una volta, tempo dopo, proprio a casa di quel fratello Ferdinand che gli è stato vicino fino all'ultimo, durante una visita, Robert Schumann e appunto il fratello troveranno il manoscritto della Grande Sinfonia e questo manoscritto sarà inviato a Felix Mendelssohn-Bartoldi che la terrà a battesimo. e questo manoscritto Grazie a tutti. Pronto mamma? Dove è il perrucchiere? Mi stanno petinando. Sì? Oh sì. Aspetta che vado a chiedere quanto ci vorrà. Quella ragazza diceva le bugie alla mamma, quindi mi interessò subito. Dicono che ci vorrà ancora un quarto d'ora. Sarò a casa al massimo fra una mezz'ora. Stai tranquilla mamma. Addio. Brooklyn, 19 novembre del 1920, nasce una bambina bellissima. Gli occhi, gli zigomi, la figura gracile, affusolata, sembra quasi un'origine orientale. È figlia di un broker di successo di origine irlandese e di un'insegnante. È Jean Tierney. Splendida attrice americana, protagonista di una Hollywood degli anni 40, molto diversa da quella delle dive etere del cinema molto precedente e di quelle procraci sensuali che verranno dopo con il boom del dopoguerra. La fan fatale. Deborah Kerr, Ava Garni. È un'altra storia. Tu hai conosciuto quelle lì. Anche lei. Anche lei. Sì, perché c'ero già. Jean Tierney aveva innata, la grazia aveva innata, l'eleganza, e ha mostrato maggiore resistenza al tempo di altre stelle luminose che si sono spente perché aveva una cifra tutta sua. Un carattere, una cifra tutta sua, una certa fragilità e delicatezza, come se a guardarla troppo la si potesse infrangere. Era una donna elegante, trasparente, fine come una porcellana. Jean, che si chiama così in onore di uno zio scomparso da giovane, trascorre un'infanzia, una giovinezza felice. A 18 anni non è solo bellissima, ma anche una ragazza colta, ha studiato in scuole private, prima in Connecticut e poi in Svizzera, è intelligente, ha un buon carattere, non è, diciamo, una di quelle ragazze molto arrembanti, le All American, che si presentano ogni giorno ai cancelli degli studi di Hollywood. Tipo non è la Rai. Sì, ma non c'era buon compagni. No. Li vale meno. Ecco, però va in visita insieme alla sua famiglia in uno di questi studios e sente una voce che dice signorina, perché non lavora per il cinema? È il grandissimo Anatol Litvak, regista di origine russa, da poco giunto negli States, viene colpito dal suo tipo di bellezza esotica e da un senso europeo lontano da quello che era il comune divismo hollywoodiano. E lei comincia a recitare con un lusinghiero successo per 150 dollari la settimana, prima in un teatro e poi arriva un'offerta che non si può rifiutare, non è Luca Brasi, ma è la Columbia. E con l'approvazione del padre lei si trasferisce in California. Nel giro di pochi anni interpreta ruoli molto diversi. All'inizio degli anni 40 le vengono offerte le parti più importanti di tutta la carriera. Sarà Ellie Mae in La via del tabacco di John Ford, Belle Star in La ribelle del sud di Irving Cummings e Poppy Charteris in I misteri di Shanghai di Von Sternberg. Ma ancora? Ma ancora arriva Ernst Lubitsch, Il cielo può attendere, una riscrittura del mito di Don Giovanni, dove lei è la donna della vita del libertino protagonista che è Don Amici, meraviglioso. Arriva poi il grande ruolo di Laura in Vertigine di Otto Preminger, 1944, sono 80 anni fa, un film e un ruolo bellissimo. Creduta morta, di lei è presente per la prima metà del film solo quel suggestivo ritratto e poi lei torna con un colpo di scena nel regno dei vivi e tutta la sua identità viene ricostruita per frammenti, flashback degli uomini che la amano e la idealizzano. Il mistero della sua bellezza si fonda con quello di Laura perfettamente. Fragilità nella sua immagine sullo schermo e fragilità anche dal punto di vista personale. Si sposa con lo stilista Oleg Cassini, con cui trascorre un breve periodo di felicità matrimoniale, ma purtroppo dal 42 la sua salute comincia a mutare perché accusa i primi fastidiosi disturbi alla vista senza conoscerne il motivo. Aspetta una bambina da Cassini, ma una malattia infettiva contratta durante la gravidanza causa dei problemi al parto e la bambina, Daria, nasce poverina con seri problemi neurologici e Jean cade in depressione. Il matrimonio si dissolve, il cinema però la ripesca e la salva e un film che non si può non ricordare, anche perché è diametralmente opposto alle eroine precedenti e il suo ruolo per Femmina folle 1945 di John Stahl. Suo film più importante. Una donna bellissima e passionale che coltiva una gelosia morbosa nei confronti del marito e non si ferma davanti a nulla pur di averlo tutto per sé. È un melodramma tra i più tragici, tra i più neri. Il personaggio di Jean è di una follia disperata, una medea degli anni 40 e per questo ruolo Tierney riceve la sua unica candidatura all'Oscar. C'è una scena all'interno del film, scura, una scena affascinante dove proprio il suo personaggio compie una cavalcata gloriosa disperdendo al vento le ceneri del padre. È veramente una scena bellissima, sembra un quadro. Di fronte a una donna così bella, il regista delle donne non poteva mancare parliamo di Joseph Mankiewicz perché il castello di Dragon Week del 1946 è il luogo in cui avviene il primo incontro con John Kennedy appena congedato dall'esercito. È un amore a prima vista, dura alcuni anni fino a che il futuro presidente degli Stati Uniti le comunica molto francamente di non poterla sposare. Sarà il primo di una serie di celebri amori contrastati di questa donna. L'altro che va ricordato, e siamo ancora nella politica, è quello con il principe Ali Khan, il principe pakistano, che era peraltro nato italiano, cioè nato a Torino, da madre italiana, era un socialite che frequenta Hollywood con grande assiduità, amico di Orson Welles e anche lui ex marito della stessa moglie di Orson Welles. Non aveva grandi problemi, Ali Khan. Rita Hayworth. Sì. La relazione tra i due è dai primi anni 50, ma viene contrastata dall'aga Khan. Prima che fondasse Porto Rotondo. Il destino, la povera nostra Jean, si accanisce sulla sua felicità, sulla sua salute, la colpisce un forte esaurimento nervoso a metà degli anni 50, viene ricoverata in due periodi diversi, in una clinica per malattie mentali dopo aver tentato il suicidio, racconterà del tormentato viaggio personale della sua vita in un'autobiografia molto lucida che scriverà anni dopo. Questo è un passaggio. Ho viaggiato in un mondo che un tempo esisteva, Hollywood dell'anteguerra e dell'immediato dopoguerra, e sono esistita in un mondo che non c'è, la prigione della mente. Se dovessi riassumere in una frase il senso della mia esperienza, direi questo, la vita non è un film, come è vero. Mamma mia. Senti, finalmente nel 60, lei troverà la felicità e la serenità in un nuovo matrimonio con il petroliere Howard. Eh sì, credo. E con lui inizierà una nuova vita. Tra i tanti film di questa attrice meravigliosa non possiamo non citare un capolavoro assoluto, Night and the City, Le Furbans de la Nuit in francesi, i trafficanti della notte in italiano. Jules Dassen, appunto, Richard Widmer, protagonista con lei, è un film pazzesco, girato a Londra con una fotografia che è una lama, e lei è meravigliosa. Jean Tierney si spegne il 6 novembre del 1991, un mercoledì sera, a Houston, Texas. Aveva ormai 70 anni, vogliamo salutarla però con il fantasma e la signora Muir del 1947 di Mankiewicz, uno dei più struggenti amori impossibili della storia del cinema secondo il grande Paolo Mereghetti. Piccolo capolavoro in bianco e nero, perché lei è innamorata del fantasma di un affascinante marinaio che infesta la sua casa, dopo una vita di nostalgia, inganni, delusioni e solitudine, lei finalmente si spegne nel sonno di una poltrona e un istante dopo il fantasma riappare per accoglierla nell'aldilà e amarla in eterno, il finale più bello e più impossibile. Jean Tierney Che dire di questa gallina spenta non dice a niente, ma forse è il Timbota che ci dice che non è un insulto, Martedè a Coulbouson, che non è un insulto, no, l'imposizione a Carponi con il sedere rivolto verso l'alto, non diciamo nient'altro, fate accendere questa gallina perché sennò il Timbota che cambia, è sempre più volgare, e diventa volgare sul finale dell'anno e a noi non si piace. Che è un segnale chiaro. È un segnale chiaro. A questo punto io lascio la parola al più autorevole di noi, al più bello, al più colto e anche più ricco. No, io prendo spunto da un articolo di Gabriele Neri del Sole 24 Ore dedicato a una torre. A oltre quattro secoli della sua dipartita il nome dello spagnolo Juan Fernández de Velasco, governatore del Ducato di Milano tra fine Cinquecento e inizio del Seicento, domina ancora questo nome, la città Lombardo perché è la torre Velasca che tutti voi conoscete. Io domattina alle 8.45 storno dentro la torre Velasca. Vedi come sei sei. E gli ascensori adesso sono sono più funzionanti rispetto a quelli del vedovo. Esatto. Alberto Sordi. Uè, Lambertoni, scusate per la Milano in questo caso. Esatto. Grazie al sostegno di Le Corbusier e Gropius i BBPR riuscirono a svincolarsi dalle prescrizioni e a far approvare un grattacielo di circa 100 metri poco meno della Madonnina. Il resto è una storia che già in parte si conosce. Tutto questo e molto altro tra disegni, lettere filmati, realtà aumentata e anche modellini tattili per i non vedenti, un'intelligente sperimentazione musografica, è al Maxi di Roma in una mostra ben fatta dedicata alla torre curata da Maria Vittoria Capitanucci e Tullia Iori. Ma perché a Roma la mostra è visitabile fino al 23 febbraio? Ma perché a Roma? La ragione è l'archivio dei BBPR affidato nel 2021 al Maxi. Con la mostra è pubblicato un rigoroso inventario che servirà ai ricercatori per districarsi tra gli 885 progetti di uno degli studi più importanti d'Italia ancora paradossalmente poco studiato. La torre velasca dei BBPR al Maxi fino al 23 febbraio. E voi sulla nostra tv sentirete ancora parlare di Torre Velasca. E chi cambia canale oggi non è un BBPR. No. Evviva. Al manacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini. Realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheriti Alessandro Puppini Prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. San Paolo. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Buona notte.